Allora, con il signor Magalini, benvenuto, il nostro nuovo direttore sportivo qui all'Anerossi Vicenza Virtus. Signor Magalini, intanto, lei di dov'è? Perché l'ha detto subito in conferenza stampa, è importante per i vicentini. Sono un mantovano di confine, abito in provincia di Mantua, Roverbelle esattamente, proprio il confine che delimita l'aspetto delle due province. Io sono nato e risiedo in provincia di Mantua, anche perché da Mantua me l'hanno detto di ricordarlo, quindi sono qua a dirlo fondamentalmente. Perfetto, allora, lei è qui, ha preso accordi appunto con la famiglia Rosso, con la società, con Paolo Medin e qual è, diciamo, la finalità di questa sua presenza? Le hanno chiesto un obiettivo. Sì, beh, c'è una finalità importante. Loro hanno deciso di cambiare dopo X anni che hanno lavorato come un bravo direttore. Io sono stato un fortunato in quanto sono stato il prescelto. È chiaro che i programmi sono ambiziosi e è una sfida importante, forte, ma nello stesso tempo che dà molta responsabilità e molto entusiasmo per poter lavorare. Quindi ho accettato con molta carica fondamentalmente. Ecco, adesso bisogna partire a lavorare e si riparte da chi? Abbiamo capito che i due capitani, Bizzotto e Giacomelli, potrebbero restare perché sono due buoni giocatori, punto di domanda? No, sicuramente. Ce ne sono anche molti altri di bravi. Quindi fondamentalmente questa è una squadra che va analizzata, va valutata. Sinceramente nel mio l'ho già fatto, ne ho parlato anche con la proprietà. Abbiamo condiviso, non in parte, una linea di pensiero di lavoro che adesso andrò ad affinare appena entreremo in campo per quello che può essere l'aspetto del lavoro immediato. Parliamo di Bizzotto difesa, Giacomelli attacco, c'è anche un centrocampo? Vabbè, ma ci sono molti più ruoli, ci sono giocatori bravi qua. Insomma, adesso quindi Cinelli, Zalpellon, Zonta, Ebovo, Bianchi, cioè non è che questi sono giocatori che secondo me in questa categoria sono di assoluto valore. Se non troveranno spazio qua, la trovano sicuramente da un'altra parte. Parliamo dell'allenatore, perché si partirà anche dall'allenatore. So che lei incontrerà Colella, che però ha il contratto in scadenza. Non sappiamo cosa succederà, ma magari un identikit sull'allenatore? Che allenatore vorrebbe lei? È un allenatore che fondamentalmente condivida il pensiero che è stato espresso in riunione fra me e la proprietà. Quindi questo allenatore, se condividerà il percorso che noi vogliamo cercare di portare avanti, può diventare l'allenatore di questa squadra. Altrimenti troveremo chi sposerà, chi valuterà positivo ciò che è il nostro pensiero. Ecco, dal suo punto di vista, diciamo, questa è una piazza importante. Ci sono dagli 8 e 10 mila. Non solo dal suo. 8-10 mila, diciamo, aspettatori a partita. Anche lei, insomma, ha girato l'Italia, ha visto grandi squadre, la Serie B, la Serie A e così via. È una responsabilità questa, essere a Vicenza? È una gioia, non una responsabilità. È una responsabilità, ma nello stesso tempo è una forza ulteriore che viene da dentro per poter spingere questi colori dove tutti vogliamo, fondamentalmente, perché che Vicenza possa tornare dove è stato sarebbe veramente importante. Sa che bomba, che scoppio tellurico potrebbe succedere, qualora capitasse? Eh sì, ma lo vorremmo davvero, signor Magalini. Non le sto promettendo niente, sto semplicemente dicendo che è una voglia che tutti stiamo mettendo dentro, piano piano. Grazie a tutti.